questa sera video è chiuso perché qua sul garda stanno per scatenarsi un po di elementi e quindi è meglio evitare rischi e poi soprattutto tira molto vento e di conseguenza verrebbe male diciamo così il viso dal punto di vista sonoro perché so che siete molto attenti anche a questi dettagli del resto posso capirvi perché un video con dentro l'effetto sonoro del vento può dare fastidio a volte non capisco per il video a fastidio un video in movimento così perché sembra che venga il balordone a qualcuno servizio movimento però va bene si accettano naturalmente ci mancherebbe tutti così anzi vi dirò che con l'inizio della nuova stagione insomma cercheremo di studiare qualche novità anche dal punto di vista grafico siete molti a dirmi di cambiare la sigla iniziale quindi stiamo studiando cominceremo comunque a studiare a breve una nuova sigla sarà affidata alla corax all'agenzia che mi segue però naturalmente cercherò anche di dare qualche spunto e poi laddove sarà possibile magari fare anche qualche cosa di di nuovo ho un progettino da tempo nella testa che sto coltivando e pian pianino insomma poi ve lo illustrerò ve ne parlerò magari un appuntamento fisso con un po di storia del balsa da raccontare insomma sostanzialmente va tanti anni di storia da raccontare legata alla juventus comunque vediamo adesso chiaramente tutti gli anni si cerca di cambiare qualcosa di rinnovarsi di stare un po più al passo con i tempi non sono uno youtuber professionista questo lo sapete anche voi sono un giornalista che è sbarcato sul tubo magari un giorno non sarò più giornalista sarò solo youtuber ma non si può mai dire della vita e per cui vedremo ma sai l'impronta del giornalista rimane sempre rimane sempre è difficile scollarsi da ridosso perché diventa una scelta di vita va bene ho parlato due minuti sul nulla ma anche perché non è che non ci sia nulla cioè avevo appena finito di dire che era saltata l'amichevole con la trigo madride che poteva sembrare un se l'amichevole in israele poteva sembrare un segno no del destino di allontanare ulteriormente le parti cioè juventus atletico e morata e invece praticamente più o meno in temporale due ore dopo che avevo detto queste cose è arrivata la notizia che la partita si giocherà domani alle 18 la continassa oggi per chi mi guarda ovviamente domani mattina alle 18 la continassa porte chiuse naturalmente quindi anche perché ripeto non era facile approntare una vendita di biglietti eccetera sarà un po effetto insomma farà un po effetto vedere juventus atletico madrid quelle loro belle divise ufficiali che si aprontano su un terreno di un centro sportivo è chiuso chiuso cioè alla gente fa un certo effetto però era un'amichevole che doveva essere giocata e quindi torna l'occasione per parlare di morata fa pure la rima baciata lo so che vi arrabbiate ragazzi lo so lo so ma dovete farvene una ragione fino a quando non ci sarà un no definitivo da parte del giocatore e da parte naturalmente dell'atletico madrid e morata continui a dire di no l'atletico madrid continui a dire di no però la juve continua tu 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 sapete la goccia no tu che cade tu quella che non mi fa dormire di notte tu tu la juve continua così prestito il prestito il prestito dividiamo altri 10 milioni si abbassa la cifra del prestito quegli altri dicono no ho citato i 25 milioni e ne parliamo e ne parliamo no concludiamo ne parliamo oppure non se ne parla nemmeno morata all'accanto su continua a ripetere le stesse cose se mi volevate migliorate prendere prima definitivamente adesso potete dovete essere molto 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 convincente è vero sembra che le due stiano dietro a cristiano ronaldo non ad alvaro morata però quando un allenatore si fissa su un profilo si fissa su un giocatore su un profilo c'è questo si fissa su un giocatore è difficile fargli cambiare idea perché perché lui si sente già un po è perché allegri perché voleva cullibali ha dovuto la juve ripiegare su un altro giocatore perché cullibali non voleva passare dal napoli due stessa cosa di a quanto pare di mertens anche se a me non risulta nessuna offerta fatta a mertens però va di moda dire così che mertens ha rifiutato la juve perché viene dal napoli ci può anche stare se mai la juve gli avesse fatto un'offerta a me non risulta nessuna offerta fatta da mertens ma questa è la è il romanzo del mercato questo è il romanzo venendo a dati un pochino più attuali o meglio fattuali fattuali diciamo che c'è da registrare un ulteriore pressing della juventus su costic facendo leva sul pressing che costi ci fa sull'entra di francoforte quindi si avvicina sempre più la possibilità che questo giocatore possa andare a completare a parte degli esterni lo so ve l'ho già detto qualche ora fa ma questo è quanto se volete che io parli di mercato parlo delle cose che so e delle cose che risultano se volete che parli a vanvera di mercato come fanno in molti mettendo in giro voci così per prendere like o chissà per quale motivo per smagna di protagonismo allora io non sono la persona adatta poi rischio di essere ripetitivo è per questo motivo che io non vedo l'ora che si giochi per evitare di essere ripetitivo perché i nomi sono sempre quelli a meno che non salti fuori il colpo a sorpresa o colpo gobbo anche per citare un collega youtuber molto bravo ecco a meno che non si non si materializzi il colpo a sensazione i nomi sono quelli e io continuo a pensare sarà difficile per esempio che la juve vada su un attaccante punta centrale di un certo peso e credo che ken rimarrà la juventus credo che che rimarrà la juventus e sto applicando un po di logica io vedevo ken esterno sinistro come nella sue origini però la juve continua a cercare esterni quindi costi ci andrebbe a colmare quella casella lì in attesa che poi arrivi anche chiesa a destra c'è di maria c'è quadrado all'occorrenza quindi non mancano gli esterni a questo punto mi sembra di capire che se tu vai a prendere costis vuol dire che consideri ken il vice blauic a ken puoi far fare ancora la punta centrale a meno che da juve a te dico madridi domani non saldi fuori qualche cosa sul solito giocatore però capite ragazzi c'è la difficoltà se voi volete che io parli di mercato è questa è uscire da quanto è stato seminato fino adesso uscire dal seminato ma uscire dal seminato significa entrare nel campo della fantasia e a me non piace lavorare di fantasia sul mercato mi piace molto nei miei servizi che scrivo per la televisione molto mi piace perché mi piace molto scrivere creare ma il mer sul mercato molta gente crea io non distruggo ma mi attengo mi attengo ai fatti stop chiudo con paredes altra altro fatto altro fatto che la juve vorrebbe chiudere a breve a breve magari entro lunedì prossimo il 15 per la partita contro sassuolo quindi vuole chiudere per costis e per paredes ma ciò che la juve vuole non è detto che si realizzi semplicemente perché lo vuole la juve costis lo vuole paredes lo vuole c'è di mezzo l'entra di francoforte c'è di mezzo il pari saint germain c'è di mezzo il fatto che la juve deve lavorarci sopra ma le sensazioni sono buone in questo momento ok l'unica certezza sapete qual è che il video finisce qua e che vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo naturalmente domani ciao